Mi sto correndo come un dannato Raga andiamocene, raga andiamocene Ragazzi comunque ho sentito il fantasma che mi ruttava nell'orecchia e più un battito Allora ragazzi Guardate l'attività totale, bellissimo Ragazzi ho sentito i battiti, nell'orecchia Allora cerchiamo di trovare il punto esatto che può essere il senzore di movimento E qua, sei gradi Ma probabilmente rischiamo di muovere Ma non l'avete messa la telecamera Ragazzi è qui, l'ho trovata Se dobbiamo rientrare usiamo l'incenso Eccolo, eccolo Scappa, scappa, scappa Ho avuto paura, stavendo che ero a livello intermedio Dobbiamo solo capire che tipo di fantasma è Dobbiamo solo capire che tipo di fantasma è